Niente visite ai pazienti da parte dei parenti. Restano alti i contagi. Il direttore del presidio ospedaliero Sant'Elia, Benedetto Trobia, ha scelto di mantenere restrittiva la norma. Infatti, dal 10 aprile si sarebbero dovuti aprire le porte degli ospedali alle visite, con regole e limiti, dal Green Pass al numero contingentato di persone per singolo paziente. Ma all'ospedale Sant'Elia, in piena autonomia, come da disposizione regionale, ogni singola azienda sanitaria ha il potere di decidere le modalità di applicare le nuove regole e disposizioni e ha deciso di lasciare ancora chiuse le porte, per evitare nuovi focolai ed un ulteriore incremento dei contagi che già nelle ultime ore sono in notevole aumento. Una scelta per tutelare i pazienti che sono per antonomasia soggetti fragili e per arginare la propagazione del virus.